Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla prima di Italia in Musical. Sono Giuseppe Cardaci, sono il regista di questo progetto. Come vedete sono anch'io chiuso in casa, come tutti noi, però sono emozionatissimo del fatto che pur essendo ognuno a casa propria stiamo potendo condividere ed essere tutti insieme per potervi mostrare questo progetto e questo lavoro che ha avuto una gestazione molto lunga. Cinque anni di fatica, sacrifici, ma anche di tante tante soddisfazioni. Inoltre credo che questo sia un momento davvero importante per condividere un progetto artistico. Sappiamo benissimo che questo lockdown ha messo in ginocchio il mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo e il poter dimostrare di esserci anche con questa proiezione credo che sia davvero molto molto importante. Non avrei mai immaginato che il titolo Italia potesse avere una valenza così forte e ambivalente come in questo momento. La nostra scelta di voler proiettare una volta solo il corto senza lasciarlo online è proprio per cercare di mantenere un po' quella magia del cinema, dello spettacolo, di essere presenti in un momento, in un luogo tutti insieme. Infatti a voi che ci state guardando dico grazie. Grazie per esservi presi del tempo e grazie per aver dato del tempo a Italia il Musical. Italia è un progetto che come vi dicevo ha avuto una gestazione molto lunga, circa cinque anni. Beh il motivo è molto semplice perché è stato un progetto totalmente indipendente, è andato avanti grazie al sostegno di tutti quelli che hanno creduto in questa follia. Dai performer del musical, i compositori, gli arrangiatori, i coreografi, gli attori, le mie stranze tecniche, a tutti loro va un mio enorme grazie. Grazie per esservi imbarcati con me e con la squadra che ha messo su tutto questo. Ma non siamo stati solo noi squadra tecniche a credere a tutto ciò, ma anche voi pubblico, perché nel 2017 abbiamo fatto una campagna crowdfunding con cui siamo riusciti a raccogliere 15 mila euro che ci ha permesso non solo di partire con le riprese e darci un aiuto concreto e fisico, ma anche un enorme aiuto morale. Essendo un progetto indipendente non siamo immediatamente riusciti a realizzare quello che era il nostro sogno iniziale, ovvero di fare un lungometraggio, ma abbiamo deciso di creare questo cortometraggio pilota che mostra un po' l'idea di quello che può diventare Italia nel suo voler diventare un lungometraggio. Speriamo che questa condivisione con tutti voi potrà portare avanti il progetto. Vedrete un teaser della durata di 13 minuti, non autoconclusivo, ve lo dico già subito, piccolo spoiler, ma così come le serie tv hanno la prima puntata che serve a far capire che il progetto è valido, speriamo che con questo cortometraggio si capisca tutto l'impegno che vogliamo metterci per continuare ad andare avanti e portare Italia al cinema. Detto questo non mi dilungo più, grazie di tutto e buona visione.